La notizia principale è che l'impianto per il trattamento dei rifiuti annunciato nelle scorse settimane da Musumeci e che di fatto aveva scatenato una mezza rivolta in città non sarà un termovalorizzatore. Non brucerà cioè i rifiuti, ma li tratterà chimicamente per trasformarli in ecocarburante. A spiegare il funzionamento dell'impianto di fronte al sindaco e all'Aggiunta, i rappresentanti di Mairekaim Colle di Asia, le due aziende oggi unite nella Nextcam, il cui progetto è stato ritenuto idoneo alla regione per l'area di La struttura dovrebbe sorgere su una superficie di circa 10 ettari all'interno dell'area nord-ovest della raffineria, accanto al dissalatore. Una sorta di green refinery nella green refinery di Eni, che attraverso il riciclo chimico consentirà di ricavare carburanti circolari da scarti di rifiuti plastici non riciclabili in modo meccanico come il Plasmix, lo scarto del processo di selezione degli imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata, e il CSS, la frazione di rifiuti indifferenziati che è stata sottoposta a una selezione qualitativa. Un procedimento che è nulla a che vedere con l'inceneritore, come sottolinea l'ingegner Giacomo Rispoli, un passato proprio in Eni qui a Gela, e adesso responsabile della Mairekaim Colle. Non è un termovalizzatore perché nel nostro impianto non c'è combustione, nel nostro impianto la materia prima, il rifiuto, lo scarto che diventa materia prima per il nostro impianto diventa poi un gas di sintesi e quindi avviene praticamente un procedimento chimico di conversione. Non c'è combustione. All'interno dell'impianto verranno prodotti biocarburanti come idrogeno, metanolo, etanolo e ammoniaca, prodotti chimici che possono essere usati come carburanti per la mobilità sostenibile e come building block per produrre altri derivati per realizzare tutti gli oggetti che abbiamo attorno a noi. Questi prodotti hanno un'impronta carbonica inferiore rispetto a quelli realizzati con i derivati del petrolio e dunque sono funzionali a una transizione verso un'economia decarbonizzata e meno impattante sul clima. Lo scarto diventa la nostra materia prima e questo è alla base del distretto circolare. Che cosa esce poi da questo distretto circolare? Escono dei biocarburanti, esce metanolo ed esce idrogeno e quindi praticamente è una sorta di bioraffineria analoga a quella che alleni eccetera con una grande differenza. La bioraffineria utilizza oli vegetali o altri materiali biomasse per fare i biocarburanti. Noi utilizziamo invece gli scarti del mondo dei rifiuti. Lei conosce benissimo l'ambiente Eni e come l'ambiente Eni è cresciuto qui a Gela ma anche purtroppo gli strasci che sono derivati dall'impatto ambientale di Eni qui in città. La paura dei cittadini ovviamente è quella di un ennesimo impianto che possa avere un impatto ambientale ancora più pesante su una terra che ancora si lecca le ferite. Che impatto ambientale avrà questo impianto? Guardi io conosco molto bene come lei sa il mondo Eni per aver vissuto tre anni in questo stabilimento e come responsabile pedochimico dal 2004 al 2006. All'epoca mi sono impegnato moltissimo nei progetti di risanamento ambientale e quindi so cosa significa vivere in un contesto dove ci sono criticità. Questo impianto lo abbiamo progettato pensando soprattutto all'ambiente. L'impatto per l'ambiente sarà zero, l'impatto per la salute per i lavoratori, i diretti, gli indiretti e per il resto della società sarà assolutamente zero perché la tecnologia è fortemente innovativa, sarà la prima volta che verrà applicata con questo concetto al mondo e quindi noi vogliamo partire a realizzare questi distretti circolari proprio qui dalla Sicilia che sia un impianto modello e un punto di riferimento per l'utilizzo corretto della tecnologia dei rifiuti. L'incontro di oggi è un primo passo per meglio comprendere l'impatto che l'eventuale realizzazione dell'impianto potrebbe avere sul territorio. Si ripartirà comunque dal Consiglio Comunale monotematico a cui i rappresentanti e l'azienda hanno già garantito la loro presenza per spiegare alla città pro e contro del progetto. Non siamo per il no a prescindere, vogliamo capire, vogliamo studiare, vogliamo approfondire e poi attraverso un confronto sereno, propositivo e costruttivo decidere attraverso il coinvolgimento di tutti gli organi istituzionali, amministrazione comunale, consiglio comunale, il mondo della città complessivamente, associazioni, comitati, insomma valutare e condividere assieme la migliore scelta per la città. Questa è la linea che abbiamo intrapreso e vogliamo continuare su questa impostazione.